Ben arrivati a questa nuova puntata del salotto dell'imprenditore, questa volta parliamo come sempre di argomenti interessanti, ma questa volta avremo modo in particolare di scoprire qualcosa di davvero intrigante. Come si chiama il nome della vostra azienda? The Insiders Italia. Ben arrivato Andrea, la prima cosa che le chiedo anche dal punto di vista di curiosità dei nostri telespettatori è di cosa vi occupate? Noi ci occupiamo sostanzialmente di aiutare le grandi aziende a raggiungere i loro obiettivi di marketing attraverso una migliore conoscenza e contatto con i loro consumatori migliori. Dal punto di vista del settore merceologico spaziate un po' a 360 gradi o vi siete specializzati in alcuni settori particolari? A dire la verità questo tipo di servizio funziona molto bene su tutte le tipologie merceologiche, in particolare noi siamo nati nel mondo del largo consumo ma nel corso degli anni ci siamo anche spostati verso la consumer electronics, la cosmetica e la luxury che sono molto sensibili a questo tipo di iniziative. Proviamo a questo punto giustamente a capire come funziona questo meccanismo. Allora immaginiamo che io abbia un'azienda di cosmetici, rientro in uno dei settori che lei ha nominato, che cosa succede? Succede che nel momento in cui definiamo insieme quelli che sono i vostri obiettivi di marketing la nostra azienda si preoccupa di ingaggiare attraverso la nostra piattaforma online un certo numero di consumatori che noi chiamiamo insiders che rappresentano quelli che poi diventeranno i vostri brand ambassador. Attraverso una selezione molto accurata con i vostri criteri aziendali andiamo poi a selezionare specificatamente coloro che rappresenteranno l'azienda e facciamo vivere per una durata che può variare dalle tre alle sei settimane un'esperienza di prodotto recapitando a casa di queste persone una confezione con all'interno il prodotto che verrà testato. Questo è molto importante perché rappresenta il punto di partenza per vivere un'esperienza reale che poi verrà trasferita a quelli che sono i partecipanti del network di queste persone. Dal punto di vista dell'azienda il costo qual è? I prodotti naturalmente che voi regalerete ma anche diciamo un budget da mettere a disposizione per questa operazione oppure in realtà è un qualcosa che viene pagato in base per esempio a delle vendite piuttosto che. Come è strutturato il business? Lo diciamo naturalmente perché siamo convinti che molti imprenditori grandi o piccoli siano già con le antenne drizzate perché lei sta parlando di qualcosa che gli permette di sviluppare una loro attività. Certo, le nostre attività sono sempre funzionali a generare business aggiuntivo ovviamente. Quello che caratterizza la nostra offerta dal punto di vista economico è il tipo di obiettivo che la nostra azienda ci viene a chiedere. In questo senso è molto importante definire bene gli obiettivi di marketing perché poi a seconda dell'educazione, dell'ingaggio e ovviamente degli altri elementi di marketing che entrano nella richiesta del progetto, noi poi andremo a costruire un budget dedicato. Le nostre iniziative non sono standard ma vengono costruite in modo sartoriale su quelle che sono le esigenze dei nostri clienti. Nel momento in cui, rimanendo nell'esempio della cosmetica, voi regalate dei prodotti che io ho messo a disposizione, i finali, coloro che ricevono il regalo, sono i consumatori o sono coloro che hanno profumerie e che potrebbero quindi diventare miei acquirenti e rivenditori dei prodotti? Sono i consumatori anche perché per noi è fondamentale creare la relazione tra l'azienda e il consumatore finale. Questi sono coloro che poi rappresenteranno l'azienda a tutti gli effetti all'interno dei propri network di conoscenze, sia a livello offline, quindi nel mondo reale, sia a livello online con una importante anche esperienza di tipo digitale. Quello che naturalmente fanno loro ci fa già capire una cosa fondamentale, come sia, devo dire, basilare avere in ogni azienda la realtà, il cuore commerciale, perché uno può avere i prodotti più belli del mondo, ma se non ha gli strumenti, se non ha una rete vendita, se non ha aziende come la vostra che in qualche modo diventino complici nel diffondere il proprio prodotto, magari lo diffonde, ma la metà della metà della metà di quel che potrebbe realmente. Assolutamente sì, anche perché in un mondo che è sempre più dispersivo da un punto di vista della comunicazione e soprattutto dei canali di comunicazione, è molto difficile trovare l'attenzione dei propri consumatori e in particolare l'attenzione delle persone giuste. Noi risolviamo questi due problemi sia da un punto di vista di scegliere le persone correttamente, di prenderle in un momento che non sia un momento commerciale, ma un momento molto più tranquillo in cui possono veramente avere un'esperienza col brand e in questo senso poi generare dei contenuti di questa esperienza che siano condivisibili sia, come dicevo prima, a livello interpersonale che a livello ovviamente social con quelli che è il network e delle loro conoscenze. Che idea si è fatto? È più difficile creare un prodotto o più difficile venderlo? Credo che oggi la difficoltà reale sia veramente intercettare l'interesse dei consumatori. Di prodotti interessanti ce ne sono tantissimi e devo dire che il mondo odierno quasi è ormai saturo di offerta. Il punto vero è riuscire a venderli e questo è uno degli elementi più difficili soprattutto perché i canali di comunicazione tradizionalmente sono diventati estremamente fragili nel riuscire a trasferire e convertire consumatori nuovi. Come è nato il vostro sistema? Qual è l'origine diciamo di questo modo strategico di poter aiutare l'imprenditore? Beh, diciamo che l'idea è nata dal nostro fondatore che è anche poi il CEO della nostra azienda che si chiama Bjorn Casse, è nato in Belgio e ha voluto trasferire la sua esperienza di marketing in quella che poteva essere un supporto alle grandi aziende. In questo senso ha mutuato la sua esperienza nel mondo del largo consumo andando a sviluppare il nostro sistema che superasse gli obiettivi che lui stesso non era riuscito a raggiungere nella sua esperienza di marchettaro in qualche modo. E questo è stato estremamente importante perché noi diciamo spesso che per poter comprendere un mercato bisogna averne fatto parte. Quindi noi parliamo alle persone di marketing con esperienza di marketing. Un po' di anni fa, quando naturalmente internet non esisteva oppure esisteva ma non era così forte e avevamo tutti molto meno opportunità. Opportunità di acquisto ma opportunità anche di sviluppo. Quindi il suo messaggio anche trasversale è quello di attrezzarsi a sfruttare la tecnologia nel modo migliore e coloro che dispongono gli strumenti per poterlo fare. Questo è fondamentale perché oggi la tecnologia ci permette di intercettare i consumatori in momenti che non siano prettamente di acquisto o di consumo. È fondamentale perché riuscire a trovare il modo giusto e il momento giusto per interagire con loro diventa chiave per creare poi dei consumatori fedeli. Ecco, c'è in tutto questo una sicurezza che io direi che è giusto che emerga. Il loro tipo di attività ovviamente non è una vendita emozionale ma è una vendita di risultati. Quindi è chiaro che voi siete i primi veramente ad essere a fianco del vostro cliente perché siete i primi ad avere interesse che lui abbia risultato perché così facendo ovviamente il cliente rimarrà legato a voi. Assolutamente sì. Noi diciamo sempre che per poter essere contenti di un'attività bisogna poi misurarla e soprattutto misurarla rispetto agli impegni che sono stati presi. Noi nella nostra presentazione dei progetti ci impegniamo preventivamente su degli indicatori che poi andiamo a misurare durante le iniziative verificando poi sul campo la loro anche veridicità. Questo è fondamentale più che altro perché oggi il mondo è diventato tutta una misurazione e tutte le grandi aziende attivano iniziative soltanto quando sono in grado di poterne garantire anche poi una quantificazione pratica. Cosa possiamo dire in chiusura come consiglio all'imprenditore? Di fidarsi dei propri prodotti ma anche soprattutto di rivolgersi a tutti coloro e tra queste aziende a Novero anche la nostra che siano in grado di lavorare in modo molto preciso, molto puntuale e soprattutto garantire poi dei risultati che siano utili al business. Prima di salutarla vorrei sottolineare una cosa importante. È vero che il prodotto naturalmente fa la sua partita ma è vero che anche i contenuti che vengono utilizzati per far capire ancora di più la valenza, le caratteristiche, quel che c'è dietro anche a un marchio perché poi è chiaro che ci dà sicurezza riuscire a capire quel che c'è dietro ad un'azienda. Assolutamente. Generare dei contenuti appropriati che rappresentino veramente le cosiddette USP di prodotto o di brand è fondamentale perché poi il business cresca e le aziende riescano poi a creare un reale legame con i propri consumatori. In definitiva poi creare dei consumatori fedeli. Io la ringrazio, abbiamo capito tante cose, abbiamo ancora di più una volta apprezzato quanto sia strategico, quanto bisogna stare attenti a curare ogni particolare per la riuscita di un'attività. A cominciare anche perché lei ha parlato di prodotti di largo consumo quale cosmetici, acqua minerale, lusso, quanto sia importante ed è su questo che chiudiamo anche quel che viene definito una comunicazione emozionale. Nel momento in cui noi vediamo un'etichetta di acqua minerale, è uscita proprio un'indagine recentemente che sostiene questo. Con una grafica per quanto bella non è mai così forte come un'etichetta magari che ci fa vedere delle montagne, una sorgente, la neve che ci dà la caratteristica subliminale di purezza. Non a caso avrete notato, è vero che molte bottiglie d'acqua minerale non sono più trasparenti ma vengono volutamente colorate di azzurra per rendere ancora di più il senso della purezza. È d'accordo che tutto fa parte di un anello concatenato? Assolutamente sì, diciamo che l'esperienza è la chiave per poter avere delle reali connessioni. In un caso la nostra azienda ha come claim e come missione quella di mettere in contatto persone reali che facciano esperienze reali, che abbiano storie reali e che in definitiva generino fiducia reale. Bene, io la ringrazio, le auguro un buon lavoro, vi auguro un buon lavoro perché il loro buon lavoro vorrà dire affari per voi. Ciao!